Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Con uno spettacolo che va oltre il semplice concerto, Laura Pausini ha entusiasmato il pubblico nelle ultime tappe del suo World Tour 2023-2024. La cantante romagnola si è mostrata in una forma strepitosa, interagendo frequentemente con gli spettatori e regalando momenti che hanno rapidamente conquistato la rete. Su TikTok, una fan di nome Alessia ha condiviso un video che documenta il suo scambio con Laura durante uno dei concerti. Alessia, dopo essersi posizionata in prima fila, ha mostrato un cartello a Laura chiedendole di eseguire una canzone in ricordo del suo ex fidanzato. Tuttavia, Laura ha rifiutato la richiesta, sdrammatizzando la situazione. Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a farsi benedire. Un incoraggiamento a guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle. Di fronte al sorriso di Alessia, Laura ha concluso con un invito a dimenticare. Basta, chiudiamola. La platea ha riso e applaudito, dimostrando di apprezzare la schiettezza della cantante, una caratteristica amata dai suoi fan. Alessia stessa ha condiviso il momento sui social, ottenendo oltre 200.000 visualizzazioni e 16.000 like. Laura sei una di noi, ha commentato qualcuno. Questa non è l'unica gag indimenticabile di Laura durante il tour. Recentemente, un video in cui ha invitato sul palco un prete fan, con un cartello che dichiarava «Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu», è diventato virale. Altri giorni fa, ha improvvisato un duetto con il collega Viaggio Antonacci, ricevendo l'apprezzamento del pubblico. Per i fan di Laura, lo spettacolo continua anche al di fuori dello stadio. In un altro video virale su TikTok, alcuni spettatori hanno catturato l'artista mentre usciva dalla struttura. Nonostante la richiesta di un saluto, Laura ha sorriso e interagito con loro, dimostrando la sua autenticità e affabilità.